Si avvicina il Natale organizzato dal CSI che quest'anno presenta alcune novità importanti dal tema che si è dato a questo incontro all'ospite d'onore che avremo in Valle Camonica. Sì, in effetti quest'anno è un anno particolare, uno perché è l'anno europeo per il volontario e noi abbiamo pensato di unire questa ricorrenza al festeggiamento del Natale. Due, perché ci sarà anche il nostro Vescovo a festeggiare con noi e questo è sicuramente molto importante. Ma poi abbiamo pensato di allargare questa proposta ormai abituare del CSI a tutte le associazioni di volontariato, quindi non solo i gruppi sportivi che sono affiliati al CSI ma tutte le realtà di volontariato in qualsiasi ambito operino. Noi le aspettiamo a Pianborno il 20 dicembre per questa festa. Una festa che, come accennavi tu, ha un titolo tra le stelle e il cuore, proprio per simboleggiare questa generosità delle persone nel donarci agli altri e la luce, la stella del Natale di Gesù che viene a rinnovare questo nostro impegno. Una serata che si svolgerà tra immagini, testimonianze, ma anche giochi, musica per chi partecipa. Sì, l'abbiamo immaginata e predisposta come una festa, quindi ci sarà sicuramente anche da divertirsi. Ma vogliamo dare spazio anche ad alcune testimonianze, dei racconti, alcune esperienze, alcune associazioni sono state invitate a spiegare, a illustrare, a presentare insomma le loro attività. Noi crediamo che l'insieme proprio di queste forze che il volontariato muove possono dare molto alla nostra società e per questo abbiamo deciso di incontrarci, anche per conoscerci, ma anche per sostenerci a vicenda in questo nostro compito. Grazie. 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 Grazie.